Ernesto Magorno, sempre più lanciato verso la segreteria regionale del PD calabrese, ufficializzata la sua candidatura al deputato dell'area Renzi, ha pianificato ormai da tempo le tappe di avvicinamento alle primarie del 16 febbraio. Per l'ex sindaco di Diamante, una serie di incontri nelle sedi provinciali del Partito Democratico e nella sua agenda non mancano i tavoli di confronto. Magorno incrocerà infatti gradualmente le sigle sindacali, le associazioni di categoria e ancora al mondo del lavoro, come del resto, il terzo settore, chi fa scuola e università. Il Renziano è così al lavoro per portare avanti il suo progetto di rilancio. È cominciata in questo modo dunque la resa dei conti per la segreteria del PD calabrese. A sfidarsi saranno in quattro Magorno, Bruno Villella, Mimmo Lopolito e per l'area cuperliana Massimo Canale. E Magorno la pensa così. Lo diceranno gli iscritti e i calabresi. Se cambia con me cambia sulla linea del segretario nazionale di Renzi, che è la linea del cambiamento, di costruire un progetto per la nostra regione, che è un progetto di rinnovamento non solo dei gruppi dirigenti ma insomma anche delle proposte che dovremo fare. La Calabria sta vivendo un momento storico difficile e l'assenza del governo regionale ha consegnato al nostro popolo il disorientamento. Saranno i calabresi pertanto a decidere chi dovrà guidare il PD regionale per costruire l'alternativa. È in un certo senso una sfida decisiva, spiegato poi Magorno. Occorre costruire un PD che torni ad essere il partito del rispetto delle regole, dell'ascolto e della discussione. Un partito capace di interpretare la domanda di partecipazione per il cambiamento. Questa, poi ha affermato il deputato di Diamante, è la strada giusta.